Ok, iniziamo i consiglieri qua con me così diamo il benvenuto. Grazie. Ok, siamo al completo, benvenuti a questa riunione per la terza riconferma, quindi il terzo bilancio semestrale dell'attività dei consiglieri comunali di zona di Milano. Prima di tutto qualche informazione tecnica. Oggi ci si trova per fare un bilancio, per poter interagire con noi, fare domande. Infatti metà di questo appuntamento sarà dedicato a tutte le vostre osservazioni e domande, proposte di miglioramenti, miglioramento a cui saremo qui apposta a rispondere. La prima invece faremo una presentazione sull'attività svolta e un po' un bilancio sull'attività, l'efficacia delle nostre azioni e in generale la nostra presenza nelle istituzioni milanesi. Detto questo, prima informazione di servizio, oggi raccogliamo 50 firme dei residenti a Milano per poter consegnare lunedì prossimo una delibera di iniziativa popolare per l'introduzione del referendum deliberativo senza quorum e di altri miglioramenti allo statuto del comune di Milano, quindi come campagna di questa primavera. Servono 50 firme autenticate, fuori le potete trovare col buon Livio che le raccoglierà e lunedì consegneremo questo documento, dopodiché avremo alcuni mesi per raccogliere 5.000 firme e in questo modo chiedere la modifica dello statuto e l'introduzione di questi strumenti di democrazia diretta anche nel nostro statuto. Contiamo di raccoglierne buona parte il 19 febbraio in piazza del Duomo, quindi gli servirà una mano da tutti gli attivi per riuscire a raccogliere moltissime firme in pochissimo tempo. Detto questo iniziamo, come più o meno visti i tempi avremo un 5 minuti a testa per fare il bilancio dell'attività. Come si vota? Dato che ovviamente è un momento in cui ci si scambia le idee, ovviamente si riconferma, si dà la fiducia. Settimana prossima da lunedì a domenica sul portale del Movimento 5 Stelle, da martedì a domenica, sarà possibile esprimere il proprio voto con un commento, ovviamente a un post che ci sarà per me, ovviamente per tutti gli attivisti e tutti i simpatizzanti e uno per ogni zona per riconfermare da parte dei gruppi di attivisti locali i consiglieri di zona. Questo ci sarà una comunicazione via mail o domenica sera o lunedì mattina dove si sarà spiegato tutto con il link per raggiungere questa pagina. Dopodiché iniziamo, altre cose nostre e darei la parola a questo punto, ah giusto, mancava ecco questo. Il documento su cui troverete tutta la nostra attività verrà pubblicato anche questo lunedì sera, così avrete il tempo di analizzare tutta la documentazione, tutti i link, il rapporto attività, le pagine personali dei consiglieri su questo documento che troverete presto assieme, stiamo finendo di mettere assieme tutti i contributi e si chiama il report 2012 per il terzo trimestre. In base a che quello servirà il vostro voto perché deve essere un voto consapevole, quindi troverete le nostre presenze, il tasso di assenza presenza, lo stipendio netto percepito, tutte le informazioni relative alle emozioni e ovviamente tutti i nostri pareri su come sta andando e come si partecipa nelle zone e al consiglio comunale. È un documento che sarà più o meno di 60 pagine, quindi ognuno auguro buona lettura. Iniziamo, ordine, no come zona 2, abbiamo deciso, da zona 9, facciamo una votazione, vogliete che iniziamo dall'1 al 9 o dal 9 all'1? Ok, quindi per alzata di mano, va bene, chi vuole far iniziare Alex Battaglia? No, 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 ti è andata bene, ok, chi vuole scherziare, far iniziare la zona 9? Ok, nessuno. Mi sa che iniziamo allora in ordine crescente dalla zona 2 alla zona 9. Alex, buon lavoro. Ciao a tutti. Non ho capito. Zona 5, Danilo Boni che oggi però è assente. 4, 4. Non abbiamo la foto da mettere, perché mi hanno chiuso per zona. Questa è la disposizione delle zone di Milano. Qua ci sono segnate la cartina di Milano con le 9 zone segnate per poter vedere esattamente qual è la zona. Dunque, io sono Alessandro Battaglia, ho 38 anni, convivo, ho tre figli, lavoro di notte, gestisco il locale notturno e da un anno e mezzo faccio il consigliere di zona 2. Sono stato eletto con 56 preferenze nominali. È stata una bella botta, perché si pensava fosse una cosa abbastanza facile da fare, da gestire. In realtà è una cosa devastante. Si parla di 8-9 incontri istituzionali alla settimana, tra commissioni e consigli di zona. Si parla di banchetti almeno uno al mese sul territorio. Parliamo di riunioni ogni lunedì sera con tutti gli attivisti della zona 2 che vogliono partecipare e confrontarsi. Parliamo con un lavoro in consiglio di zona che non è vincolante per il comune. Quindi quello che il consiglio di zona delibera, quello che il consiglio di zona propone al comune, il comune può prenderne atto, metterlo nel cassetto o stravolgere completamente quello che poi è stato deciso dalla zona. Quindi è un parere non vincolante. Abbiamo imparato a emendare, quindi a proporre delle correzioni a dei testi che vengono proposti dalla maggioranza. Alcune volte va bene, alcune volte va male. Va quasi sempre male purtroppo, per ovvi motivi. Abbiamo scoperto tristemente che le commissioni eleriscono soldi alle associazioni tramite dei fondi, si chiamano MAP e contributi. Non ricordo la cronica di MAP, ma qualche altro consigliere sicuramente. Mandato di anticipazione. Praticamente sono le associazioni che vengono in zona e fanno delle proposte per delle iniziative che hanno da fare sul territorio, presentano un rendiconto e la commissione decide se dare soldi, quanti darne. E questo avviene da un anno e mezzo in maniera costante. Ogni tre mesi si chiude il periodo, si parte un altro periodo di tre mesi e continuano a dare soldi, 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 soldi. Parliamo di la commissione cultura, per esempio in zona 2 ha dato 45 mila euro nel 2012 ad associazioni. Il problema è che le associazioni vengono liberamente, sono sempre quelle che partecipano, sono sempre le stesse locazioni che si usano e sempre lo stesso utente a cui si va a fare l'offerta. Una delle nostre battaglie che abbiamo fatto, che è proprio la più recente che abbiamo quasi portato a termine, su cui stiamo ancora lavorando, è stata quella di costringere la maggioranza a fare dei bandi pubblici, quindi essere lei a proporre un'iniziativa di interesse utile per la zona, conoscendo il territorio, e a quel punto poi fare un bando pubblico a cui le associazioni possono aderire, partecipare e se vincono devono fare quel tipo di iniziativa. Questo è un modo per dare anche un'indicazione rispetto a quello che si vuole fare nella zona, perché le associazioni vengono e presentano la lettura dei libri per bambini, vanno benissimo, però non è che si può sempre fare solo lettura per bambini, la zona ha bisogno di tantissime altre cose. Abbiamo una via, in particolare via Padova, che ha un... da Piazzale Loretto al primo ponte della Ferrovia ci sono 50 etnie differenti, quindi parliamo di 50 lingue, 50 culture, 50 modalità di socializzazione diverse. Stanno, hanno cominciato a fare un tavolo di lavoro su via Padova, adesso apriranno un laboratorio su via Padova che sarà indirizzato a fare questa cosa. Noi stiamo facendo in modo che proviamo a fare in modo che venga assegnato per un bando questa cosa, rispettando alcune cose in particolare. L'abbiamo deliberata l'altro giorno in consiglio di zona, è stata per noi una soddisfazione, invece di vedere l'associazione che veniva a chiedere soldi per questa cosa, finalmente è il consiglio di zona che la propone. Tutto questo abbiamo imparato anche a preparare delle interrogazioni, degli accessi agli atti, ci siamo confrontati con la parte burocratica di questa amministrazione che a volte è super efficiente perché comunque è in linea con noi e ci vuole aiutare per farci sapere le cose che non vanno e come poter intervenire e c'è la parte che ovviamente è disinteressata a noi e quindi non ci fa avere quello che ci spetta per diritto avere. Ogni volta bisognerebbe partire per fare denunce, per fare segnalazioni, ma sono costose, sarebbero a carico nostro e sarebbe ancora il comune poi a pagare, non sarebbe il singolo dipendente comunale che ha sbagliato a pagare a livello economico, sarebbe il comune che risiascisse i soldi, quindi saremmo ancora noi a pagare noi stessi per una cosa che ci spetta e che non ci fanno, quindi ha oggettivamente poco senso. Tutto questo però è possibile a una sola condizione, che ci sia la partecipazione dei cittadini. Se non c'è un gruppo dietro a un consigliere, il consigliere fa veramente molto molto poco perché fisicamente non è fattibile fare tutto, perché se si vuole farlo nel miglior modo che uno possa provare a farlo, le ore sono tante, gli impegni sono tanti, sono otto riunioni tra commissioni e consigli di zona la settimana, sono quindi documenti da leggere, sono quindi mail numerevoli, mail che arrivano, ci sono i cittadini da andare a sentire, i cittadini da informare. Noi in zona 2 abbiamo un bellissimo gruppo che sta funzionando molto bene e ci dividiamo rapidamente i compiti di cosa c'è da fare. Il lunedì sera quando ci troviamo decidiamo chi presenzia alle commissioni, perché le commissioni sono assemblee pubbliche, quindi sono aperte a tutti, liberamente, senza doversi iscrivere, senza dover chiedere permesso, senza niente, si va, si siede e si partecipa. Nelle commissioni i cittadini hanno anche la possibilità di intervenire nella discussione durante il lavoro della commissione, ma non hanno la facoltà di votare la delibera che poi esce dalla commissione. In consiglio di zona si può chiedere di parlare prima che il consiglio di zona incominci, quindi ci sono gli interventi dei cittadini, finiti gli interventi dei cittadini si passa alla discussione istituzionale da parte delle forze politiche e da quel momento in poi i cittadini non possono più intervenire durante il consiglio di zona. Però sono sempre assemblee pubbliche, quindi nel limite del possibile fateci un giro, perché visto, sentito, sembra una roba incredibile, chissà questi cosa fanno, in realtà mangiano pane e salame, bevono birra, si fanno, leggono il giornale, guardano la parità sul telefonino, si mandano a quel paese e quando c'è da votare chiedono al loro capogruppo cosa devono votare. Praticamente siamo 41 consiglieri, siamo 9 forze politiche, sono 9 persone che decidono come 41 persone devono votare. Questo non è proprio secondo me, ma credo secondo tutti quelli che sono qua, molto in linea con quello che deve essere l'attività politica di un consigliere all'interno di un'istituzione. Cos'altro dirvi? Stiamo in zona 2, stiamo seguendo diverse battaglie, il gioco di parole è molto simpatico, io devo ringraziare anche mia moglie che mi permette di fare questa cosa, che mi sta accompagnando da un anno e mezzo, sta lavorando forse più di me dietro le quinte, stiamo seguendo battaglie incredibili sulle scuole di legno nel quartiere Adriano, siamo riusciti a presentare alla commissione del comune di Milano un progetto per la stessa scuola che loro hanno fatto fare dei loro tecnici, che costa meno ed è pronto in meno tempo. Non l'hanno voluta. Stiamo intervenendo con informazione, perché questi sono i mezzi, noi valiamo un voto su 41, quindi il nostro voto non cambia, già il voto di 41 non cambia niente per il comune, figuratevi il voto di 1 per 41 quanto possa valere. Però io ho notato questa cosa, questa è la mia sensazione personale che mi dà ancora la voglia, la forza di provare ad andare avanti se voi deciderete voi e chi da casa ci sta seguendo e chi poi voterà in rete la riconferma. Stanno cominciando a guardare da un'altra parte, quanto meno. Non fanno quello che vorremmo noi, non sono in linea con la nostra modalità di lavoro con i cittadini, perché loro non hanno idea di cosa voglio dire coinvolgere i cittadini e fare delle assemblee pubbliche dove si ascoltano tutti i cittadini. Le loro assemblee pubbliche sono loro che parlano i cittadini dall'altra parte, punto. Quella è un'assemblea pubblica per loro, non c'è confronto. I comitati per Pisapia non hanno mai visto un incontro fatto prima che non fosse già stato deciso qualcosa. Sono sempre stati convocati per fargli sapere cosa il comune aveva deciso di fare. E questo è quello che i comitati hanno avuto in cambio dallo scorso mandato. Io ho finito, sono tante le cose da fare, però c'è un blog, ogni zona ha un blog, lì avete tutte le informazioni di tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Ci sono una serie di canali per seguirci, Facebook, Twitter, Google+, chi più ne ha più ne metta, c'è l'imbarazzo della scelta. Ringrazio tutti e buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Buonasera, sono Patrizia Bedori, ero direttore commerciale e ho deciso di smettere di lavorare per dedicarmi a mio figlio. Faccio questa piccola, questo piccolo preambolo perché quando è nato mi sono resa conto di vivere in un'Italia che non mi piaceva affatto. quindi ho deciso di non lamentarmi solamente ma di fare qualcosa per cambiare. Lo devo a mio figlio e a tutti i figli di mamme che vedo qui anche il nostro candidato presidente. Bisogna fare qualcosa e quindi sono andata alla presentazione del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo al Teatro Esmeraldo e da lì è iniziata un po' la mia trafila. Sono solamente consigliera da due mesi, poco più o poco meno, contando il periodo natalizio. Entro e subentro dalla candidata Elena Re nella zona 3 e sono la nuova portavoce. Quindi non ho molto da raccontarvi sul mio operato in zona perché sono veramente da poco. Posso invece raccontarvi di come vedo il mio ruolo. Sono una portavoce quindi ogni cosa che si decide in zona 3, ogni delibera, ogni cosa che passa in commissione la rigiro agli attivisti di zona, al gruppo di attivisti e da lì si apre una discussione che poi ha come risultato finale un sondaggio e quindi io poi porto nel consiglio di zona la decisione del mio gruppo, del gruppo di cittadini. Quindi spero di poter continuare. Io non dovrei neanche essere qui in realtà perché visto che mi spettano sei mesi ne ho fatti solo due quindi però mi dispiace non raccontarvi molto. Elena che è stata molto attiva fin quando non ha iniziato a lavorare ha fatto delle grossi delle grosse battaglie sulla trasparenza e quindi ha preparato mozioni e interrogazioni sulla possibilità di cosa che è stata fatta tra l'altro anche in tutte le zone la possibilità di riprendere tutti i consigli e di rendere pubblici visto che questa amministrazione ha promesso trasparenza ma in realtà ancora non ha anzi in quasi tutte le zone ha messo un po' i bastoni tra le ruote su questa piccola ma grande possibilità per i cittadini di essere partecipi. Niente mi auguro che in zona 3 ci siano sempre più attivisti perché abbiamo bisogno cerchiamo di fare del nostro meglio per sentire i consigli e le questioni delle problematiche della nostra zona e niente sono qua grazie ciao a tutti io sono Massimiliano Toscano ah ok Danilo è purtroppo a casa con con l'influenza ci sta seguendo in streaming e viene sostituito da un prode attivista però grazie ciao Danilo grazie Mattia sono Daniele Pesco sono un attivista di zona 4 e appunto faccio le veci di Danilo che è a casa con l'influenza abbiamo una piccola presentazione che ha preparato Danilo che condivido in pieno ve la ve la ve la illustro io mi sono occupato più che altro delle commissioni territorio e ambiente quindi su questi temi sono un po' più ferrato sul resto un po' meno comunque la presentazione è abbastanza generica in consiglio di zona 4 Danilo ha evidenziato questi due aspetti abbastanza curiosi uno è il fatto che spesso ci si si vede come opposizione e maggioranza si scontrino su degli argomenti con delle posizioni con delle posizioni prese in precedenza nel senso se fossero loro se i ruoli fossero invertiti sicuramente si comporterebbe sempre in modo diverso e questo è una cosa molto curiosa perché uno ci si aspetta magari guardando i programmi che magari ci si aspetta che una giunta una maggioranza di sinistra sia magari contro i temi legati al cemento invece si vede come spesso in consiglio di zona questo approccio verso la cementificazione l'urbanizzazione un po' spinta viene portato avanti anche da questa giunta di sinistra invece su un'altra cosa molto particolare è il fatto che la partecipazione viene fatta sì su temi però molto semplici dove è facile coinvolgere dove su temi semplici e poco strategici per esempio faccio un esempio che Danilo non ha riportato sulla costruzione di un parco dove è facile chiedere alla cittadinanza se preferiscono avere il parco giochi o il bar o il servizio o una zona per l'aggregazione delle famiglie con i bambini e con gli anziani è facile chiedere il parere invece su altre questioni un po' più delicate come la costruzione di una casa per lo studente in una zona già fortemente urbanizzata ecco lì si è visto come la cittadinanza non viene come il suggerimento della cittadinanza non vengono presi molto in considerazione come numero numero di mozioni e interrogazioni ecco su questo non abbiamo portato Danilo e io non abbiamo portato avanti molte emozioni in quanto abbiamo visto che comunque il Consiglio di Zona riesce a risponderci anche senza una presentazione di una vera propria mozione o interrogazione nel senso spesso abbiamo chiesto degli atti ci sono stati forniti quindi su questo siamo abbastanza tranquilli come interrogazione però nello specifico come interrogazione abbiamo chieste appunto come indica qua Danilo abbiamo alcune in cantiere due o tre mesi fa vedendo appunto che ci rispondono su fatti particolari non abbiamo insistito più di tanto con degli atti pubblici come riunioni in zona 4 abbiamo visto che sta crescendo un po' di partecipazione ultimamente ci stiamo vedendo tutte le settimane lunedì sera a casa di Danilo e riusciamo a affrontare i temi da poi portare nelle varie commissioni e in consiglio di zona poi ci sono i cittadini delle presenze su questo non entro molto nel particolare Danilo ha fatto si possono vedere i percentuali delle sue presenze che sono molto alte in una considerato anche il fatto che spesso no spesso ogni tanto capita che noi lo sostituiamo nelle varie commissioni o in consiglio come presenza diciamo come si partecipa alla zona 4 abbiamo un google group e un wiki non è tantissimo tempo che ce l'abbiamo ci troviamo molto bene a utilizzare questi strumenti e sono aperti a tutti e si può partecipare sui temi che riguardano la zona e in più su facebook abbiamo la pagina di zona 4 poi c'è anche il blog di Danilo nient'altro penso scusate su efficacia delle nostre azioni ah si no Danilo ha fatto le considerazioni personali riguardo all'attività in consiglio di zona e anche all'attività che riguarda il movimento in generale lui segue nello specifico come anche lo seguo io il gruppo rifiuti ed altre cose quindi nella zona come attività in consiglio di zona bisogna tener conto anche di questo che spesso e meno male il movimento ci porta a portare avanti anche temi in altre sedi e quindi un po' di tempo va via anche per questo come per quanto riguarda la partecipazione sta crescendo in zona piano piano vedo che sia noi come attivisti sia i cittadini ci prendono un po' più in considerazione ci portano i temi da portare avanti ci portano delle questioni e di questo siamo felici e penso appunto Danilo in prima persona io direi nient'altro grazie grazie a tutti salve a tutti io mi chiamo Massimiliano Toscano consigliere di zona 5 ho 39 anni sono nato a Venano diciamo che in questa attività oramai oltre un anno e mezzo ho avuto modo di constatare che il consiglio di zona sarebbe un ottimo strumento molto vicino ai cittadini se venisse ovviamente potenziato e venisse utilizzato in tutte le possibilità che ha e